Motociclista Motociclista, in che categoria ti hai fatto? Categoria Civ SP 250 Quest'anno che cosa stai facendo? Civ SP 250 Sì, nel senso che hai fatto polva e fatto... Eh no, stiamo secondi in campionato, tre punti del primo Eh, ti pare poco? Ti pare poco? Ecco, non magari meno E dietro di te tutte le coppie che hai iniziato questi anni? Sì, con che moto hai iniziato? All'inizio? Sì Con un Honda 100 E per un campionato monomattico? No, no, senza campionato Poi, ma a mano? Ma a mano no, siamo passati alla Kawasaki Civ 50 E poi abbiamo iniziato a fare il camion italiano E per il futuro se avete mantenuto delle forze? Cioè, penso a un Moto3 Non sappiamo però se c'è la voce Moto3 significa una moto ufficiale da gara, giusto? Con te? Sì Con che scuderia? Da decidere Da decidere? Ah, ti so no Vuoi ringraziare qualcuno in particolare? Per esempio quel signore che sta da fianco a te? Lo voglio ringraziare, certo Sì, e perché lo devi ringraziare? Ma così Ah, così, va bene Allora non diciamo che è il tuo padre Certo, certo Ok, va bene Allora non lo diciamo Non tantissimi auguri Bocca al lupo E ci vediamo per la Moto3 sicuramente Va bene Va bene? Ciao 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 Ciao